Lunedì 23 marzo ci sarà una commissione, revisione spesa molto importante. Ci occuperemo nuovamente dei costi del Comune, quindi di noi tutti, che sosteniamo per il Vaticano, per gli istituti religiosi, per gli edifici di culto in generale, fondazioni, eccetera. Oltre a quanto previsto già ovviamente dai patti lateranensi e della revisione del 1984. Avremo delle novità molto importanti con delle spese a dir poco incredibili.